e poi si trova la pagina e ha girato l'anno se l'ha messo in te tutta quella volta e sono scese le mie lente con gli uccia io non lo faccio mai scelto dai dai ragazzi streggetti i denti dai 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 noè noè cari ma io non me lo ricordo io mi ricordo che mi hai detto prima come ho detto gli spezzi chal vão vieni amo vieni no, vieni 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 ho detto vieni 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 dai dai non girarti il mio piaccio è insomma io non so di averte scritto almeno il suo mazzo almeno Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti.